Buonasera a tutti. Apriamo la nostra seduta. Do il benvenuto alla Ministra Fedeli, che naturalmente ringrazio per aver aderito con prontezza alla richiesta che le abbiamo portato. Una richiesta di audizione che è relativa all'avvio dell'anno scolastico. Naturalmente saluto il Presidente della Settima Commissione del Senato, Andrea Marcucci, i senatori presenti e avverto che abbiamo concordato di far durare questa audizione circa due ore per cercare di completarla in una sola seduta. La Ministra ha a disposizione mezz'ora il tempo necessario naturalmente per la sua esposizione iniziale e poi un quarto d'ora il tempo necessario per la sua replica. I gruppi hanno un tempo definito, dovrebbero essere un'ora e venti minuti per un totale di 80 minuti ripartiti come nella tabella che è in distribuzione. Avverto che la Ministra Fedeli ha preparato una traccia del suo intervento che può agevolare naturalmente i colleghi nel seguire la sua esposizione. Prego tutti di segnalare, stanno per distribuirla credo, prego tutti di segnalarci con sufficiente anticipo la richiesta di intervento in modo da dare ai nostri lavori la speditezza che tutti vogliamo. Cominciamo subito, do la parola immediatamente alla Ministra Fedeli. Prego Ministro. Tanto grazie, saluto i due, la Presidente e il Presidente, le senatrici e i senatori, le deputate e i deputati. Intanto vi ringrazio per l'invito all'audizione di oggi che è un'occasione dal mio punto di vista ma spero anche del vostro per fare il punto sull'avvio dell'anno scolastico 17-18, un anno particolarmente denso di novità sfidanti per il mondo della scuola in un momento storico in cui la scuola deve ancora di più essere una grande e centrale questione nazionale perché la scuola è motore di cultura, di libertà e di eguaglianza e deve essere veicolo di mobilità sociale come ha fortemente auspicato anche il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico a Taranto lo scorso 18 settembre. Ma cominciamo ad analizzare insieme come è andato l'avvio dell'anno scolastico. Se ricordate, proprio in occasione del mio primo incontro con voi, tra gli obiettivi che mi ero prefissata ponendo al centro delle politiche dell'istruzione gli studenti, vi era quello di centrare tempestivamente e nel migliore dei modi possibili tutti i passaggi necessari per iniziare senza le difficoltà del passato il nuovo anno scolastico. Ebbene, credo di poter affermare senza rischio di smentita che l'obiettivo è stato raggiunto e ha consentito alla vasta comunità scolastica un inizio di anno ordinato e regolare. Ciò anche grazie all'impegno e alla serietà degli uffici del MIUR sia centrali che regionali e anche delle scuole che hanno realizzato ogni passaggio nei tempi previsti ed è anche utile ricordare che sono state importanti le intese con le organizzazioni sindacali. L'attenzione e la dedizione dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo delle scuole e del Ministero hanno consentito di avere e di relegare le difficoltà e i problemi ben al di sotto del livello fisiologico che caratterizza ogni operazione complessa come quella dell'inizio dell'anno scolastico che coinvolge milioni di alunni e alunni centinaia di migliaia di lavoratori e più di 8.000 scuole. Abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo sin dal primo giorno del mio insediamento quando chiese agli uffici di programmare e curare con la massima attenzione ogni attività relativa all'anno scolastico 17-18 finché gli studenti potessero avere in classe sin dall'inizio delle lezioni i docenti che li accompagneranno per tutto l'anno scolastico. E' stato quindi preparato un cronoprogramma dettagliato di tutte le attività ciascuna oggetto di un attento monitoraggio e ottimizzazione e ogni attività è stata completata in anticipo rispetto alle analoghe tempistiche del 2016-2017. L'iscrizione alle scuole che determina come sapete il numero di studenti influenza quindi ogni altra operazione. è la prima fase ed è avvenuta in modo informatizzato e per consentirne la conclusione il 6 febbraio del 2017 con 16 giorni di anticipo rispetto all'anno scorso sono stati anche potenziati i sistemi informativi. L'organico dei docenti distribuito tra le regioni in base al numero di studenti iscritti e alle caratteristiche della rete scolastica vista la nuova norma anche messa nel decreto legge sul mezzogiorno relativa all'incremento dell'organico per 15.100 posti ha richiesto un fittissimo lavoro di coordinamento con il MEF malgrado ciò le operazioni di definizione dell'organico si sono concluse il 24 maggio e il 4 agosto è giunto il concerto del MEF quindi circa due mesi prima dell'anno scorso. La mobilità dei docenti è affidata per legge alla contrattazione e solo dopo che la si è compiutamente svolta si ha a conoscenza di quanti e quali posti siano rimasti liberi in ciascuna regione a disposizione delle assunzioni a tempo indeterminato. Ogni attività relativa alla mobilità è stata curata con la massima attenzione a partire dalla contrattazione che si è conclusa il 31 gennaio del 2017 con 10 giorni di anticipo rispetto all'anno scorso. Le istanze di mobilità sono state presentate entro il 6 maggio 2017 quasi un mese prima rispetto al 2016. Il sistema informativo che elabora le istanze è stato completamente reingegnerizzato cosa che ha consentito di pubblicare i risultati della mobilità partendo dalla scuola primaria il 9 giugno per terminare con la secondaria di secondo grado il 20 luglio quasi un mese prima rispetto all'anno precedente e senza alcuna contestazione dei risultati. Le nuove assunzioni a tempo indeterminato cosiddette missioni in ruolo si sono concluse entro il 14 agosto grazie all'impegno in un periodo tipicamente di ferie estive del personale degli uffici scolastici regionali che hanno garantito il completamento di questa operazione e delle altre qui descritte. Anche in questo caso le operazioni si sono concluse un mese prima rispetto all'anno scorso. L'individuazione per competenze è stata introdotta dalla legge 107 e disciplina l'assegnazione dei docenti titolari su ambito territoriale subprovinciale alle singole scuole. Nell'anno scolastico 17-18 il dialogo instaurato con le organizzazioni sindacali ha condotto alla sottoscrizione del contratto integrativo. Nel 2016-17 invece si fu costretti a procedere unilateralmente con atto datoriale. L'individuazione si è completata nella terza settimana di agosto a fronte dell'inizio di settembre nel 2016-17. Le assegnazioni provvisorie sono disciplinate da un apposito contratto collettivo nazionale integrativo e tutelano l'interesse del personale che si trovi in particolare situazioni personali e familiari, disabili, neogenitori, titolari di legge 104, ecc. Di ottenere cioè una sede più agevole per la durata di un anno scolastico nel limite dei posti disponibili. Anche questa ci è conclusa il 31 agosto del 2017. Cension fatta per le province di Enna e Caltanisetta dove la eseguità di risorse umane all'interno dell'ufficio ha fatto concludere le operazioni a fine settembre. Parliamo di un totale di circa un centinaio di assegnazioni provvisorie. Le medesime operazioni nel 2016-17 si dilungarono in numerose regioni sino all'inizio di novembre. Per una maggiore tutela della continuità didattica si sono concordate nuove regole che hanno limitato il numero di assegnazioni interprovinciali a 12.088, meno della metà rispetto al 2016-17, fermo restando ovviamente le tutele e i diritti di legge. Qui vi sottolineo un dato che quello che in occasione anche della presentazione del rigore di chi ha diritto ad essere tutelato andava tutelato, ovviamente un contrasto esplicito a tutti gli abusi. E su questo abbiamo anche indirizzato una lettera all'Inps e alla salute esattamente per monitorare i casi di abuso perché poi finisce che incidono su chi invece ha il vero diritto. Abbiamo anche recentemente costituito l'osservatorio. La nomina dei supplenti a cura degli uffici scolastici regionali è terminata ovunque entro il 12 settembre. Le nomine a cura delle istituzioni scolastiche si sono completate tra il 12 e il 20 settembre, a differenza di quanto avvenuto l'anno scorso, quando le nomine dei supplenti furono completate nel mese di novembre. In tutto questo percorso si sono riscontrati problemi solo in pochi circoscritti casi, meno di quelli che ci si potrebbe attendere se pensiamo che stiamo parlando di un'operazione, lo ripeto, che coinvolge quasi 8 milioni di alunni e più di un milione tra dirigenti, docenti e personale ATA. La difficoltà vera e diffusa sul territorio è stata data dalla generale carenza di docenti di sostegno in possesso del titolo di specializzazione, causata anche dal fatto che numerosi docenti specializzati preferiscono, appena riescono, spostarsi su posti comuni. Per risolvere anche questa criticità, ad aprile ho firmato il decreto che ha dato il via a un corso di specializzazione per 9.949 posti, sostanzialmente pari a quanti ne sono rimasti da coprire nell'organico di diritto. Peraltro, i posti banditi corrispondono alla capacità di accoglienza massima delle università. La situazione appena descritta sugli insegnanti di sostegno appare chiara se andiamo ad analizzare i dati sulle emissioni in ruolo nell'anno scolastico 17-18. A settembre sono state disposte 29.686 emissioni in ruolo su un contingente di 51.773 posti disponibili. Sono rimasti 22.087 posti privi di titolare di ruolo, utilizzati quindi per le assegnazioni provvisorie e per le supplenze. Analizzando il dato regionale, la cui tabella riepilogativa è allegata alla relazione che lascerò depositata presso le commissioni, si nota che la gran parte dei 22.087 posti rimasti disponibili è riferita al sostegno e alla scuola secondaria, soprattutto nelle regioni del nord e del centro. Non è stato possibile coprire 11.552 posti della scuola secondaria con nuove assunzioni ed è stato invece necessario coprirle con nomine a tempo determinato, poiché nelle regioni del nord, soprattutto in Lombardia e Piemonte, le graduatorie di alcune materie, in particolare di matematica italiano, sono rimaste esaurite. Quindi, per chiarire, in Lombardia e in Piemonte e altre regioni del nord, su queste classi di concorso sono stati assunti tutti i vincitori di concorso, ma anche, sulla base del decreto legislativo sul reclutamento, tutti gli idonei. D'altro canto, si tratta di materie ordinamentali, quindi l'amministrazione, in sede di predisposizione dell'organico, deve comunque assegnare i relativi posti che sono necessariamente rimasti privi di titolare per l'anno scolastico 17-18 e affidati a personale a tempo determinato. Inoltre, come vi dicevo, non è stato possibile coprire con nomine a tempo indeterminato 10.011 posti per il sostegno agli alunni con disabilità, perché vi è carenza di personale specializzato. Anche in questi casi è stato quindi necessario ricorrere a personale a tempo determinato, ove possibile specializzato, altrimenti anche non specializzato, in attesa che si conclude il nuovo corso specializzante sulla base dell'apposito decreto che ho firmato ad aprile. Proprio il ricorso al personale a tempo determinato ha portato anche quest'anno alcuni a criticare la presenza nelle classi dei docenti a tempo determinato, parlando di supplentite. I dati ci dicono però che queste critiche hanno meno ragione di essere di quanta potessero avere negli anni passati. La grande quantità di risorse finanziarie assegnate alla scuola dalla legge 107 in poi ha infatti consentito di porre le condizioni per ridurre strutturalmente il numero di docenti a tempo determinato e di cui il sistema ha bisogno. In particolare quest'anno il Ministro Padona e Dio abbiamo spostato ben 15.100 posti dall'organico di fatto a quello di diritto. Si tratta di posti che prima potevano per leggere essere occupati unicamente con contratti a tempo determinato e che oggi possono essere assegnati a docenti di ruolo. Grazie a ciò, per l'anno scolastico appena iniziato, è stato necessario ricorrere a contratti a tempo determinato in misura inferiore rispetto al passato. Infatti sono stati sottoscritti circa 83.000 contratti rispetto ai 102.000 dell'anno scorso dei quali 22.087 su posti di organico di diritto 18.762 su posti di organico di fatto 1.600 per sostituire il personale in distacco e comando e circa 40.000 per le deroghe sul sostegno. A partire dall'anno 18-19 anche i 22.087 posti che quest'anno sono stati occupati con contratti a tempo determinato per l'esaurimento di ogni graduatoria saranno utilizzati per nuove emissioni in ruolo grazie alla prossima edizione dei nuovi concorsi tra cui quello riservato al personale abilitato previsti dal Decreto Legislativo 59 del 17 sul reclutamento. Mi preme particolarmente soffermarmi ora sulla situazione dell'apertura dell'anno scolastico nelle zone terremotate sia in Italia Centrale sia a Ischia. Anche per quest'anno scolastico come per il precedente le scuole dell'Abruzzo del Lazio delle Marche dell'Umbria hanno beneficiato di misure studiate per attenuare alcune delle conseguenze dei terremoti che hanno colpito quei territori dall'estate del 2016 sino ai primi mesi di quest'anno. Infatti in sede di conversione del cosiddetto Decreto per il Mezzogiorno si è data prosecuzione alle analoghe misure sugli organici già previste per l'anno scolastico 16-17. Le difficoltà scaturite dagli eventi sismici hanno così potuto ricevere una risposta adeguata da parte dei competenti uffici scolastici regionali che ove necessario hanno autorizzato classi in deroga ai parametri di legge e hanno istituito posti aggiuntivi sia di docenti sia di persona leata. Da un punto di vista organizzativo posso affermare che l'anno scolastico 17-18 è iniziato regolarmente per tutte le scuole colpite dal sisma del centro Italia pur segnalando che alcune scuole in misura minore rispetto all'anno scorso stanno ancora facendo i doppi turni in attesa dell'installazione dei moduli provvisori o dei lavori di ripristino. In particolare il MIUR nominato soggetto attuatore dalla protezione civile ha stanziato 10-2 milioni di euro cui si aggiungono ulteriori 6 milioni destinati dalla protezione civile gestiti dal ministero per completare il processo di ripristino di fornitura di moduli provvisori ad uso scolastico. Pertanto finora il MIUR ha contribuito a realizzare 14 strutture modulari ad uso scolastico già realizzate dal MIUR con donazioni 5 finanziamenti concessi dal MIUR per altrettante scuole 2 procedure di gara in corso 9 procedure da avviare per altrettante scuole. Il MIUR è quindi intervenuto già su 19 scuole ed è in corso l'iter di finanziamento per ulteriori 11 scuole e anche su questo troverete la tabella ripollegativa legata alla relazione. Siamo poi dovuti intervenire a seguito del terremoto che ha colpito Ischia con particolari conseguenze negative su alcuni comuni dell'isola. Pertanto per venire incontro all'esigenza del personale scolastico che ha perso l'abilitazione ho firmato il 13 settembre un'ordinanza per consentire loro di godere di agevolazione nell'assegnazione della sede di servizio per questo anno scolastico esattamente come era stato fatto per le regioni dell'Italia centrale. Anche a Ischia l'anno scolastico è iniziato regolarmente in tutte le istituzioni scolastiche anche se in alcuni casi con doppi turni. Il MIUR ha garantito tutto il supporto necessario per l'inizio della scuola avviando anche progetti didattici che accompagneranno le studentesse e gli studenti durante tutto l'anno nonché uno specifico supporto per la fornitura di arredi attrezzature laboratoriali necessarie. Con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e la numero 480 dell'8 settembre 17 il MIUR è stato nominato soggetto attuatore per la gestione dell'emergenza e per la fornitura di moduli provvisori ad uso scolastico e ha messo a disposizione 6 milioni di euro per il ripristino degli edifici scolastici inagibili. In allegato troverete la sintesi relativa ai 47 edifici scolastici ispezionati e poi il dettaglio delle scuole su cui il MIUR interverrà in particolare si tratta di 11 edifici agibili 16 edifici agibili con prescrizioni 4 edifici agibili con rischio esterno 10 edifici temporaneamente inagibili 4 edifici inagibili 2 edifici inagibili con rischio esterno la situazione più critica è quella di Casa Micciola dove su 5 scuole complessive 4 scuole sono state dichiarate inagibili e una parzialmente agibile ma la tax force del Ministero insieme ai comuni e alla Regione è attiva per fornire il massimo supporto possibile l'anno scolastico per tutte le scuole è stato caratterizzato anche da un'altra novità nei primi giorni di scuole i dirigenti scolastici gli operatori scolastici e le famiglie si sono confrontati con l'applicazione del decreto legge 73 del 2017 sull'obbligo vaccinale provvedimento che come sappiamo si fonda sulla tutela della salute pubblica individuale da ottenersi attraverso l'incremento della percentuale della popolazione vaccinata sino ad aggiungere a quel 95% che permette di proteggere anche la salute individuale delle bambine e dei bambini che non possono vaccinarsi perché ad esempio immunodepressi nel rispetto stringente della normativa e del parere del primo settembre dell'autorità garante per il trattamento dei dati personali il MIUR ha cercato di accompagnare le scuole adottando anche due circolari esplicative quella del 16 agosto e quella congiunta con il Ministero della Salute del primo settembre nelle quali si è operato da un dato per adottare misure semplificate per le famiglie per esempio la generalizzazione dell'autocertificazione e semplificazione del modello ma anche di evitare oneri amministrativi insostenibili per le scuole inoltre già in sede di conversione le Camere e il Governo hanno collaborato per introdurre l'articolo 3bis che consente a decorrere dall'anno 2019-2020 di sgravare le scuole di ogni addempimento riguardante la verifica dello stato vaccinale delle alunne e degli alunni le scuole dovranno semplicemente trasmettere alle ASL l'elenco degli iscritti e saranno le ASL a fare ogni ulteriore verifica alla data di approvazione della legge di conversione non fu possibile prevedere che tale misura entrasse in vigore da subito poiché molte regioni non hanno un sistema informativo pronto tuttavia da allora ad oggi abbiamo lavorato per riuscire ad anticipare l'attuazione di questa norma anche grazie al parere urgente con valenza generale che il garante per la protezione dei dati personali ha emesso il primo settembre in merito ai flussi dati dalle scuole alle ASL grazie a ciò le scuole della Toscana della Lombardia del Lazio e di altre regioni hanno potuto limitarsi a trasmettere gli elenchi degli iscritti alle ASL stesse ci tengo ora a condividere con voi un obiettivo su cui il Ministero è già al lavoro infatti partendo dai buoni risultati conseguiti quest'anno sulle operazioni di avvio è già partito il lavoro per l'avvio dell'anno scolastico 18-19 con un nuovo cronoprogramma ancora più ambizioso ma credo dovuto e giusto tra un mese precisamente il 13 novembre pubblicheremo in anticipo la consueta circolare sulle iscrizioni che quest'anno recherà anche le novità derivanti dal decreto legislativo di riforma dell'istruzione professionale in quello stesso periodo comincerà la contrattazione con le organizzazioni sindacali sulla mobilità del personale docente con l'obiettivo di concluderla prima di Natale e con una novità che ritengo positiva per tutto il sistema in attuazione della legge 107 del 2015 proveremo d'ora in poi a far sì che la contrattazione sulla mobilità abbia cadenza triennale per dare regole certe stabili nel tempo e continuità didattica non appena le regioni avranno adottato le delibere per la definizione della rete scolastica da gennaio si apriranno le iscrizioni a scuola con la conclusione stabilita per il 6 febbraio come sempre le famiglie avranno a disposizione un congruo lasso di tempo e potranno avvalersi dell'ormai rodato sistema di iscrizioni online che anche quest'anno sarà aperto sulla base delle richieste delle singole regioni per i centri di formazione professionale i passaggi successivi saranno tutti accelerati per concluderli sino a un mese prima rispetto ai tempi già ridotti che hanno caratterizzato l'avvio 2017-2018 la definizione degli organici la mobilità le emissioni in ruolo le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie e le supplenze saranno svolte quindi prima di quanto non si sia fatto quest'anno le scuole potranno così trascorrere buona parte del mese di agosto libere da adempimenti burocratici i dirigenti scolastici i docenti e il personale ATA avere certezze anticipate sul loro futuro lavorativo e gli studenti e le famiglie potranno avere certezza se possibile ancora di più di quest'anno della presenza di tutti i docenti in classe sin dal primo giorno di scuola garantire il funzionamento ordinario dell'amministrazione scolastica è compito fondamentale del ministero e sono soddisfatta di avervi potuto illustrare come quest'anno sia stato possibile dare avvio alle elezioni in modo ordinato in tutto il paese e di come spero possa andare a regime un calendario strutturato e anticipato per i prossimi anni ma in realtà non posso sottacere che il primo e più grande risultato raggiunto nel 2017 ha riguardato il futuro non solo la gestione ordinaria mi sto riferendo ai decreti legislativi approvati il 13 aprile che sono stati poi pubblicati successivamente sulla gazzetta ufficiale che hanno costituito uno dei miei primi impegni appena giunto al ministero nell'arco di pochi mesi lavorando serratamente insieme a voi in particolare alle commissioni parlamentari competenti siamo riusciti a far pubblicare in gazzetta ufficiale ben otto decreti dei nove previsti dalla legge 107 che oggi sono in corso di attuazione contengono disposizioni che riguardano tutti gli aspetti dell'istruzione scolastica e delle quali le famiglie gli studenti e il personale scolastico attendono ora la piena entrata in vigore anche in questo caso abbiamo predisposto un cronoprogramma per la predisposizione dei decreti attuativi molti dei quali come vi illustrerò fra un attimo già adottati o predisposti tra i più attesi dal mondo della scuola vi sono quelli riguardanti l'attuazione del decreto legislativo 59 in particolare i nuovi concorsi per i docenti della scuola secondaria l'impianto normativo della legge 107 e quello del decreto legislativo 59 hanno disegnato un sistema che ha l'obiettivo di debellare il precariato e dare tempi e risposte certe a chi voglia cimentarsi nella professione di docente l'obiettivo è in gran parte raggiunto nella scuola secondaria dove sono state più numerose le classi di concorso le cui gradatori sovente legale spesso anche quelle del concorso e la seconda fascia sono ormai esaurite matematica quasi ovunque ma anche italiano in tante regioni del nord come hanno dimostrato per l'ennesima volta anche i dati sulle emissioni in ruolo dell'anno scolastico 17-18 ora è importante non fermarsi e proseguire in questa direzione bandendo regolarmente i concorsi non solo per i docenti ma anche per le altre figure professionali di cui la scuola ha bisogno per questo il ministero bandirà entro pochi giorni il concorso per 2425 posti di dirigente scolastico cioè tutti quelli vacanti e quelli che si prevede lo diverranno nell'arco di tre anni naturalmente rimane fermo lo scorrimento integrale della graduatoria del concorso 2011 ancora vigente in campagna il concorso presenta diverse novità anzitutto si tratta di un corso concorso che prevede oltre alla prova preselettiva uno scritto e l'orale anche due mesi di corso e quattro di tirocinio inoltre sarà un concorso nazionale gestito centralmente per quanto organizzato territorialmente il regolamento sul nuovo corso concorso è stato pubblicato il 20 settembre in gazzetta ufficiale e ora siamo in attesa dell'autorizzazione a bandire da parte delle amministrazioni competenti finalmente daremo poi la giusta attenzione anche alla figura apicale del personale amministrativo i DSGA nel 2018 sarà bandito il concorso aperto a tutti gli italiani in possesso di laurea specifica così come agli assistenti amministrativi che abbiano svolto le funzioni di DSGA per tre anni negli ultimi otto esperienze che saranno valorizzate nel percorso concorsuale i posti a bando saranno tutti quelli vacanti e disponibili ora circa 1700 non che quelli che lo diverranno nei prossimi anni bandiremo anche in anticipo rispetto al termine che la legge fissa febbraio 2018 il concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria questo concorso consentirà a tutti gli abilitati o iscritti nelle GAE e nella seconda fascia che lo vorranno di inserirsi in una nuova graduatoria regionale di merito previo svolgimento di un esame orale non selettivo queste nuove graduatorie saranno costruite anche sulla base dei titoli di servizio professionali che peseranno per il 60% del punteggio complessivo e saranno utilizzate per le emissioni in ruolo a partire da settembre 2018 fermo restando che il 50% dei posti continuerà ad essere riservato alle GAE sino al loro esaurimento e che la legge assicura anche lo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2016 per i vincitori e quegli idonei stiamo anche lavorando al concorso riservato ai docenti con almeno tre anni di servizio e a quello ordinario per la scuola secondaria entro novembre avvieremo l'iteo dei decreti attuativi tra i quali rientra anche un regolamento i passaggi sono quindi numerosi informativa alle organizzazioni sindacali esame del MEF parere del consiglio superiore della pubblica istruzione deliberazione preliminare del consiglio dei ministri parere del consiglio di stato parere delle commissioni parlamentari deliberazione definitiva del consiglio dei ministri firma del presidente della repubblica e registrazione della corte dei conti lavoreremo per completare l'iter il più rapidamente possibile e assicurare che i vincitori dei concorsi possono avviarsi al percorso fit a partire dall'anno accademico 2018-2019 infine non mi sono dimenticata della scuola dell'infanzia primaria né del personale ATA ho proposto per la legge di bilancio apposite misure relative a dentambi che sto concertando con la presidenza del consiglio dei ministri con il MEF l'interesse delle alunne e degli alunni delle studentesse degli studenti e delle loro famiglie è invece puntato su altri due decreti legislativi il numero 62 relativo alla valutazione e certificazione delle competenze il numero 63 che si occupa di diritto allo studio la nuova disciplina sulla valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado nonché sull'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione appena entrato in vigore i decreti attuativi sono stati perfezionati il 4 ottobre e la circolare applicativa è stata diramata a tutte le istituzioni scolastiche tante le novità senza stravolgimenti le valutazioni periodiche finali sono sempre espresse in decimi tranne che per il giudizio sintetico sul comportamento e saranno accompagnate dall'esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti con riferimento all'esame conclusivo del primo ciclo abbiamo scelto di dare maggiore valore al percorso fatto dalle studentesse e dagli studenti nel triennio di studi e di cambiare la struttura dell'esame stesso che non comprenderà più la prova nazionale invalsi le prove invalsi in italiano e matematica continueranno ad essere proposte occorrerà svolgere per essere ammessi all'esame saranno utili alle scuole alle famiglie alle studentesse e studenti per capire il livello di competenza raggiunto ma non entreranno più nella valutazione che sarà affidata esclusivamente ai docenti del consiglio di classe presieduti dal dirigente scolastico anche grazie a ciò l'esame di stato del primo ciclo avrà una struttura più semplice le prove scritte saranno tre rispettivamente riferite alla lingua italiana alle competenze logico-matematiche e alle competenze in lingue straniere seguite da un colloquio colgo anche l'occasione per ringraziare pubblicamente in questa sede autorevole il professor Serianni che con il suo gruppo di lavoro sull'italiano ci ha già dato il suo primo illustre contributo nella declinazione e nell'articolazione della prova di italiano nel decreto regolativo dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo prima dell'estate le studentesse e gli studenti riceveranno per la prima volta anche una prova di inglese standardizzata predisposta dagli invalsi con la quale sarà certificato il livello di competenza raggiunto rispetto ai livelli previsti dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue si tratta di una novità che ritengo abbia un indiscusso valore per le famiglie che potranno avere così un prezioso riscontro in un ambito oramai fondamentale quello della conoscenza linguistica nei prossimi mesi prepareremo anche i decreti attuativi che riguardano l'esame di stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado così che le studentesse e gli studenti che inizieranno il loro quinto anno a settembre 2018 possono sapere prima di allora dettagliatamente come si articolerà il loro esame il decreto numero 63 relativo al diritto allo studio fa chiarezza nelle competenze dello Stato delle regioni e degli enti locali e soprattutto sostanzia nuove risorse 30 milioni di euro già quest'anno 33 e 4 dal prossimo per le borse di studio 10 milioni per i sussidi didattici per gli alunni con disabilità 2 e 5 milioni per l'istruzione ospedaliere domiciliare le risorse per i sussidi e per l'istruzione ospedaliere domiciliare sono state già assegnate e entro il mese di novembre provvederemo ad assegnare anche le borse di studio inoltre grazie al decreto stiamo potenziando la carta dello studente assegnandola anche agli studenti universitari del comparto AFA e dei centri regionali per la formazione professionale che godranno così dello stesso accesso agevolato a beni e servizi di natura culturale ai servizi di trasporto e all'acquisto di materiale scolastico già disponibile per gli studenti delle scuole ritengo molto importante anche il decreto legislativo 65 che istituisce il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni di età su tutto il territorio nazionale e stanzia ingenti risorse 209 milioni quest'anno per avviare il percorso di raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dall'Europa in temi di copertura del servizio a tal fine è stato già sottoposto alla conferenza unificata il piano di azione nazionale pruriennale che detta le regole generali per l'impiego di queste risorse che saranno utili per la realizzazione di nuove costruzioni per coprire quota parte dei costi di gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia e per la formazione continua del personale il decreto legislativo ha anche stanziato 150 milioni di euro per costruire poli per le infanze innovativi le risorse sono state già ripartite tra le regioni che stanno acquisendo le candidature per individuare le aree interessate dall'intervento tra breve sarà quindi possibile bandire il concorso di idee per individuare i progetti da realizzare importanti novità anche per il sostegno agli alunni con disabilità l'eccellenza del sistema italiano nell'integrazione degli alunni con disabilità ha trovato una nuova conferma con il decreto legislativo 66 come noto a tutti voi il decreto incrementa ulteriormente la cura e l'attenzione nella redazione del piano educativo individualizzato e in quella del piano per l'inclusione scolastico assicurando la partecipazione delle famiglie e degli altri attori rilevanti come gli enti locali cambia anche il modello di certificazione con la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di settore novità così rilevanti in un settore di grande delicatezza come quello della disabilità richiedono tempo per essere implementate ed è per questo che il decreto prevede che entrino in vigore dal 2019 nel frattempo stiamo lavorando per definirne nei minimi dettagli insieme all'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che ho da poco costituito quale luogo eletto di collaborazione con le associazioni di settore di rilevanza nazionale alcune importanti misure entreranno però in vigore già prima del 2019 abbiamo già sottoposto al parere del consiglio superiore della pubblica istruzione il regolamento per disciplinare la continuità didattica in favore degli alunni con disabilità anche nel caso in cui i docenti siano a tempo determinato il consiglio superiore pubblica istruzione ha formulato un primo parere interlocutorio chiedendo ulteriori approfondimenti lavoreremo assieme per portare rapidamente a conclusione il decreto inoltre dal 18-19 nell'assegnare alle scuole agli alunni l'organico del personale in servizio come collaboratore scolastico si terrà conto del numero di studenti con disabilità e del loro genere grazie alle modifiche che stiamo apportando al regolamento sull'organico ATA e al DPR numero 119 del 2009 infine vorrei assicurare che il lavoro del ministero non si esaurisce in ciò che ho potuto illustrarvi così brevemente ma sta riguardando tutti i decreti legislativi ad esempio su scuole italiane all'estero grazie anche alla collaborazione del ministero degli esteri l'attuazione è quasi completata e relativi decreti attuativi così da portare a compimento la revisione del sistema di istruzione iniziata nel 2015 a riguardo ritengo possa essere utile costruttivo darci sin d'ora un appuntamento per un'altra audizione prima della fine del 2017 o comunque prima della fine della legislatura ma preferirei diciamo entro il 2017 per fare il punto sull'attuazione concreta delle deleghe che a quel punto sarà in fase di definitivo completamento come vi anticipavo e come già dimostrano una parte delle disposizioni attuative dei decreti legislativi già entrati in migore per l'anno scolastico in corso l'anno scolastico 17-18 si caratterizza per grandi novità e per il consolidamento di innovazioni già sfidanti una di queste è l'alternanza scuola-lavoro che come noto ha avuto un significativo sviluppo grazie anche alla legge 107 del 2015 che l'ha progressivamente resa obbligatoria e l'ha innovata tale sviluppo è testimoniato dal progressivo incremento del numero di studentesse e studenti coinvolti nell'anno scolastico 16-17 per il quale l'obbligatorietà è stata estesa agli studenti delle classi terze e quarte la stima del numero degli studenti che ha partecipato ad esperienze di alternanza è di circa 1-1 milione per l'anno scolastico in corso in cui l'alternanza entra a regime completo si prevede il coinvolgimento di circa un milione e mezzo di studenti più o meno equamente ripartiti tra le classi terze, quarte e quinte dell'ultimo triennio di tutti i percorsi di studio con riferimento alle risorse finanziarie destinate all'alternanza occorre ricordare che oltre allo stanziamento previsto dalla legge 107 per l'attività di alternanza è prevista l'assegnazione di 140 milioni di euro del fondo sociale europeo per la scuola 2014-2020 per l'anno scolastico 17-18 il miura ha messo in campo una serie di importanti misure comunque di accompagnamento sarà aperta a tutte le scuole la piattaforma di gestione dell'alternanza scuola lavoro strumento messo a disposizione di scuole strutture ospitanti studenti e famiglie per facilitare la progettazione la gestione e il controllo dell'alternanza è prossima la pubblicazione della carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro prevista dal comma 37 della legge 107 dopo l'acquisizione dei prescritti concerti e pareri il testo è attualmente in fase di esame da parte del competente dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri ai fini della definitiva autorizzazione prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale è stato firmato in queste ore il protocollo con l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per mettere a disposizione delle scuole tutor ampal esperti di mercati del lavoro che possono supportare i referenti tutor e dirigenti scolastici nell'implementazione dell'alternanza ancora più di sempre quest'anno scolastico appena partito dovrà essere improntato anche a garantire una scuola più inclusiva una scuola capace di attuare fino in fondo l'articolo 3 della costituzione italiana che sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni sociali e personali ritengo che sia questa la scuola di cui abbiamo bisogno perché garantire pari condizioni a tutte le ragazze e i ragazzi significa dare al paese una possibilità in più di sviluppo e di benessere diffuso come già annunciato agli studenti e alle studentesse in occasione della mia nota di buon inizio di anno scolastico quest'anno il MIUR e le scuole lavoreranno su alcuni valori educativi che ritengo strategici per la formazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze come cittadine e cittadini attivi consapevoli e responsabili lanceremo un piano e una campagna per l'educazione al rispetto presenteremo le linee guida contro la violenza di genere e le discriminazioni previsto dal comma 16 della legge 107 proseguiremo con forza nel contrasto di bullismo e cider bullismo con il debutto anche nelle scuole delle nuove disposizioni della legge di recente approvata in Parlamento attraverso l'educazione civica digitale puntiamo a mettervi a disposizione gli strumenti per una corretta lettura delle informazioni che arrivano attraverso la rete per evitare che siano vittime di bufale o di cosiddette fake news e per contrastare il linguaggio dell'odio continueremo l'implementazione del piano di educazione alla sostenibilità lanciato a fine luglio per realizzare concretamente gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU con le scuole e la corte costituzionale celebreremo i 70 anni dell'entrata in vigore della nostra costituzione in occasione dei quali faremo in modo che ogni studentessa e ogni studente riceva questo testo fondamentale che contiene tutti i valori e i tratti distintivi della nostra intentità grazie Grazie Ministra per questo quadro così esauriente e dettagliato di questo avvio di anno scolastico ho alcune richieste di intervento l'Onorevole Palmieri e poi il Senatore Conte cominciamo con l'Onorevole Palmieri prego Grazie grazie gentile Signora Ministro comincio con un dato biografico e poi verrò a tre domande circoscritte dato biografico è che io ho molto patito negli anni passati essendo in questa commissione oramai dal lontano 2001 quando il il partito di cui lei fa parte adesso nelle sue varie evoluzioni usava la scuola come un terreno come il terreno principale di un confronto politico teso unicamente a colpire il governo allora legittimamente in carica e quindi avendo sofferto tanto in quegli anni non ha ripago della stessa moneta lei e altresì vero che in tutte le circostanze di questo tipo ogni ministro che l'ha preceduta è venuto raccontando tutte le cose che andavano bene a proprio giudizio e i cantieri aperti per lavorare e aggiungo per essere coerente con questa premessa poi vengo ai tre punti non si può che essere contenti laddove le cose vadano meglio nella scuola perché quello della scuola è realmente un campo di bene comune e come dicevo all'inizio del mio questo mio intervento deve essere in limiti del possibile sottratto lo scontro politico l'onorevole centemano che come lei sa bene è la nostra responsabile scuola che adesso stasera impegnata a Bruxelles ha presentato e presenterà una serie di interrogazioni ciclo scritte su tutti i punti che riguardano l'attuazione della riforma della scuola quindi io risparmio tempo mi concentro su tre domande specifiche il primo riguarda una cosa che a noi sta molto a cuore che è l'alternanza scuola-lavoro che come ricorderà fu iniziata dal ministro Moratti nel 2003 e che adesso appunto vede le implementazioni che lei ha opportunamente ricordato però nelle cose che lei indica non indica quando cioè usa il futuro verrà 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 ma il futuro è un'ipotesi come dice una canzone di Enrico Ruggeri l'ideale sarebbe sapere esattamente quando avverrà questo nel corso di questo anno scolastico quindi l'apertura del portale e le altre due misure che lei ha indicato correttamente nella sua relazione la seconda questione riguarda un tema che lei non ha citato e che è stato oggetto di quattro mie interrogazioni che continueranno fino alla fine della legislatura che riguarda l'esclusione delle scuole parietarie del piano nazionale per la scuola digitale questa è un'esclusione grave soprattutto vivendo noi nell'era digitale non ripeto i termini delle mie interrogazioni e mi fermo qui perché questo comunque è una lacuna che deve venire colmata il terzo e ultimo punto riguarda la parte finale del suo intervento dove lei parla coerentemente con l'attuazione della riforma della scuola la legge 107 del 15 della prossima emanazione delle linee guida del comma 16 allora anche qui non è indicata la data e come lei sa nella nostra commissione qui alla camera ci si sta esercitando da parecchio tempo con tante proposte di leggi su questa materia personalmente noi come Forza Italia riteniamo che la questione sia aspettare le sue linee guida perché di fatto quella è l'attuazione della norma altro non servirebbe però comprendendo la passione che anima tante soprattutto tante colleghe e colleghi su questo punto sapere con certezza quando saranno emanate e pubblicate le linee guida credo che consentirebbe dal mio punto di vista di perdere tempo in commissione e di avere soprattutto una disposizione che è già operativa rispetto a un cammino di una norma che come sappiamo tutti con realismo e qui chiudo è evidente che non potrà vedere la luce in questa legislatura grazie grazie onorevole Palmieri senatore Conte prenda l'altro quello accanto uno al microfono ah no allora ringrazio la signora ministra per l'utilizzazione che ha dato evidentemente sono state messe alla luce le positività di questo avvio di anno scolastico che indubbiamente è stato più regolare rispetto a quello precedente non posso però non far presente quella che è la situazione della mia regione che mi porta a evidenziare questa situazione in Veneto mancano 216 dirigenti scolastici mancano 172 di SGA ci sono 3.700 supplenti non specializzati di sostegno presi da graduatori e di istituto con professionalità che sicuramente non sono quelle dell'abilitazione e dell'insegnamento quindi diverse da quelle a cui sono chiamate a fare ci sono dopo 2400 cattedre coperte da supplenti e alcune nomine sono tuttora in corso oggi siamo al 10 di ottobre e nomine sono ancora in corso quindi non sono esaurite perché con quel meccanismo che consente al docente di prendersi qualche giorno per rispondere e dover ricorrere alle gradatorie successive effettivamente c'è un sistema macchinoso che comporta dopo questi ritardi ecco per cui le mie domande sono molto semplici la situazione attuale è estremamente pesante per quanto riguarda la regione Veneto quindi cosa si pensa di fare per evitare che quello che si è verificato l'anno scorso in maniera più grave quest'anno in maniera più leggera si ripeta anche nei prossimi anni dopo sottolineo per quanto riguarda per esempio gli insegnanti di sostegno da parte delle università venete sono previsti 300 posti annualmente mentre i posti che si rendono liberi anno per anno sono tra i 600 e i 700 quindi un netto sottodimensionamento rispetto a quella che è la necessità per cui credo che sarà necessario appunto che nel momento in cui verrà bandito anche il nuovo concorso si tenga in considerazione quella che è l'effettiva necessità regione per regione per evitare che succeda quello che si è verificato anche quest'anno che per esempio i dirigenti scolastici della graduatoria della regione Campania rifiutano il trasferimento sono a disposizione di quella graduatoria però in Veneto i posti rimangono vacanti e abbiamo dei dirigenti che hanno tre diversi istituti magari dislocati viste le dimensioni degli comuni anche in 10-12 comuni diversi quindi avendo come interlocutori ecco anche parecchie amministrazioni potete immaginare qual è il disagio qual è la situazione in cui si trovano a lavorare per cui le domande mie sono essenzialmente due se c'è la volontà di dimensionare i posti per le università in base a quelle che sono effettivamente le necessità e dopo come verranno dimensionati i posti per quanto riguarda i concorsi cioè se si vuole tenere in conto in considerazione quella che è la diversità di situazione da regione a regione grazie senatore Conte onorevole Nicchi la relazione della ministra è una relazione molto estesa dettagliata avremo modo di analizzarla ed è anche un documento a disposizione di tutti i soggetti che sono molto coinvolti e interessati naturalmente rivela un lavoro intenso diamo atto che siamo di fronte ad un metodo anche nuovo del ministero ma che malgrado questo però noi partiamo questo gruppo parte da un presupposto che sia necessario un superamento della legge 107 questo è l'impianto il punto di vista con cui guardiamo e analizziamo anche il lavoro del ministero perché questa legge per noi va superata intanto guardando alla relazione e cerco di essere un po' più diciamo mirata ci sono dei punti che non troviamo quindi però avremo modo anche qui di riflettere il primo non c'è nessun riferimento al tema della valorizzazione della professionalità degli insegnanti a partire dal tema dei contratti è un grande tema che rientra in questa diciamo è molto molto importante su cui vorremmo capire qual è l'intendimento del governo secondo si è parlato di diritto allo studio noi crediamo che sia una priorità e quindi ci dovrebbe essere una sede di bilancio una forte volontà di investimento su questo tema sulla quale ecco questa noi la consideriamo come lei l'ha definita una sfidante una questione sfidante di sfida poi ci vorremmo chiarire e dire subito con chiarezza che ci sono delle novità che noi non vogliamo che vengano introdotte se ne parla utilizziamo questa diciamo sede questo luogo per ribadirle primo non si può parlare di riduzione della durata della scuola media superiore a 4 anni in un paese che ha bisogno di più scuola perché ha i più bassi tassi di spesa scolastica il più alto numero di ragazzi che non lavorano non studiano non sono inseriti in nessun percorso formativo parlare di riduzione della scuola media superiore è un errore tragico lo diciamo subito secondo non si può più parlare di sbarramenti tra scuola superiore e università la questione del numero chiuso va affrontata come questione di assoluta eccezionalità non può essere la regola quindi non vogliamo quindi che in questo impianto che già critichiamo fortemente della 107 si possono introdurre questi temi di cui si parla che peggiorerebbero ulteriormente poi ci sono delle strutture e le sottolineo se ne potrebbe citare tante io ne miro su alcune che si devono possono anche affrontare per limitare i danni ecco per limitare i danni noi per esempio chiediamo se non sarebbe il caso di utilizzare per esempio tutta la mole la massa dei neo immessi utilizzandoli prioritariamente per abbassare le classi il numero dei ragazzi che compongono le classi e superando invece tutta una diciamo situazione che gli insegnanti segnalano come situazione anche critica di svalorizzazione di attesa di legata a tutta la questione dell'integrazione del curricula quindi l'utilizzo degli nuovi messi come utilizzo prioritario per abbassare il numero degli alunni nelle classi che è un grandissimo tema seconda questione la questione alternanza scuola lavoro io credo che questa questione meriterebbe una riflessione molto più approfondita perché sicuramente deve essere chiaro che cosa non deve essere non deve essere come è successo in numerosi casi un utilizzo del lavorativo dei ragazzi assolutamente in assoluto distanza da qualsiasi connotato formativo culturale per di più lavoro non pagato quindi quello non deve essere e la nostra idea sarebbe quello di sospendere questa normativa e legarla ad un monitoraggio delle esperienze che ci sono per negare quelle negative valorizzare quelle positive eventualmente generalizzarle a tutti e non legate ad alcuni territori e non ad altri e però connotarle di un forte contenuto formativo cosa che non è detta quindi prima di generalizzarle di portarle avanti in un modo così acritico noi chiediamo un monitoraggio per capire come procedere quindi sospendere questa parte legandola ad una fase di valutazione l'altra grande struttura che si dovrebbe immediatamente cancellare anche con modifiche ma purtroppo siamo in fine legislatura ma modifiche legislative è superare tutte quelle norme che fanno dipendere dal dirigente scolastico la determinazione del rapporto di lavoro degli insegnanti che continua ad essere una delle strutture più gravi della legge con questo chiuso grazie onorevole nicchi ho poi quattro richieste del movimento 5 stelle quindi prego i colleghi di organizzarsi con tempi contingentati voi lo sapete la senatrice montevecchi grazie presidente ringrazio la ministra andrò molto velocemente quasi per titoli perché così lascerò spazio anche ai colleghi credevo che il discorso sull'alternanza scuola-lavoro sarebbe stato affrontato in modo diverso in questa relazione perché onestamente qua si parla di numeri ma non si fa alcun cenno alla qualità di questa esperienza per i nostri studenti tra l'altro sono notite anche recenti a meno che io adesso presa dalla stanchezza non abbia seguito approfonditamente la relazione mi pare che si parli solo di numeri che è aumentato e che prevediamo che si arrivi a 1,5 milioni di studenti coinvolti però nulla sulla qualità e dire che insomma abbiamo ricevuto nel corso di questo primo anno molte notizie in merito alla qualità di questi percorsi e avrei preferito che la ministra questa sera si presentasse e ci raccontasse come intende verificare e monitorare la qualità di queste esperienze per fare in modo che non dico gli studenti che ormai purtroppo hanno vissuto delle esperienze non troppo positive ma almeno quelli a venire abbiano delle esperienze un po' più positive perché non è sempre stato così purtroppo e quindi insomma io credo che al di là dei numeri non è il numero che fa la bontà di una di una iniziativa ma è anche la qualità di questa iniziativa e sappiamo che a volte poi queste esperienze possono essere non solo negative ma possono avere poi anche delle ricadute su quello che può essere il percorso dello studente quindi volevo capire in che modo il ministero si stia attrezzando per migliorare il monitoraggio e per fare in modo che gli studenti abbiano quindi delle esperienze in coerenza con il più possibile in coerenza con il percorso di studi sull'edilizia scolastica noi eravamo rimasti alle slide dell'ex presidente del consiglio le scuole belle le scuole sicure le scuole nuove però poi anche qui recentemente forse ieri o l'altro ieri abbiamo saputo di un nuovo crollo proprio qui a Roma volevamo capire come siamo messi con la messa in sicurezza in generale non solo nelle aree del sisma perché anche qui mi pare che si parli di soldi ma poi volevo capire anche gli altri fondi che fino abbiano fatto e anche sulla manutenzione ordinaria perché non c'è solo la messa in sicurezza talvolta è anche una buona manutenzione ordinaria che fa sì che magari certi incidenti possano essere evitati dal momento che poi noi richiediamo degli obblighi per poter accedere alla scuola dell'obbligo e allora anche noi siamo obbligati a consegnare agli studenti degli edifici sicuri e concludo con la discrepanza nel numero dei posti di accesso ai percorsi di abilitazione per l'insegnamento e il fabbisogno ovvero i numeri disponibili prima il senatore Conte accennava alla questione del sostegno in Veneto mi pare che questo problema ci sia anche sui posti comuni e basta grazie onorevole marzana grazie presidente grazie presidente no sai che io non lo grazie presidente grazie ministra per la sua illustrazione che però non fa accenno alcuno ad alcuni problemi che sono spuntati a seguito delle riforme attuate dal precedente governo che comunque si pone in continuità con questo e mi riferisco in particolare alla sparizione delle cattedre messe a concorso perché nonostante i vincitori dell'ultimo concorso siano per la maggior parte delle classi di concorso il numero inferiore rispetto ai posti messi a bando si è verificato il paradosso che le assunzioni in ruolo sono molto esigue e che per completarli per tutti i tre anni in pratica cioè tutti i tre anni non basteranno per completare appunto tutte le assunzioni per fare un esempio scuola primaria 1096 posti messi a bando 700 i vincitori 180 sono i posti che sono stati occupati dalle assunzioni in ruolo ma da dividere con i docenti delle graduatorie d'esaurimento un piccolo esempio ma questo è ciò che si è verificato comunque per la gran parte delle classi di concorso altro problema quello degli idonei oltre il 10% un altro caso in pratica di fantasmi di sparizione perché questi idonei quindi dei docenti che hanno superato tutte le prove di concorso sono paragonati esattamente ai bocciati perché sono al di fuori delle graduatorie di merito ora tutti sappiamo qual è la differenza tra vincitori ed idonei però diciamo che la correttezza il diritto e anche delle sentenze appunto costituzionali dicono che tutti gli idonei vanno inseriti nella graduatoria di merito in maniera da essere eventualmente assunti in ruolo qualora ci siano dei posti disponibili oltre a quelli che sono stati banditi con il concorso parliamo quindi anche di efficienza della pubblica amministrazione in questo caso il problema poi della coincidenza dei posti questi sono problemi vecchi che questo governo non ha non ha risolto quindi quello della mancata coincidenza tra i posti in organico di diritto e in organico di fatto che è molto più grave nel caso dell'organico di sostegno anche perché c'è poi una situazione a sé in questo caso perché abbiamo pure i posti in deroga parliamo di un terzo dei posti posti di sostegno in deroga circa 50.000 che non rientrano né nell'organico di fatto né nell'organico di diritto e questo comporta oltre al fatto di non avere quindi docenti specializzati nei posti in questi posti di sostegno anche il fatto che i docenti del sud con titolo di sostegno vengono trasferiti al nord perché prima ci sono le assunzioni le mobilità e solo alle assegnazioni provvisorie solo alla fine si passa in pratica ad occupare questi posti di sostegno quindi abbiamo il paradosso che gli insegnanti specializzati del sud si trasferiscono al nord per esercitare la loro funzione i bambini invece i ragazzi del sud rimangono senza docenti di sostegno perché questo fenomeno è molto più acuto al sud e pensiamo che in Sicilia ci sono 5.000 posti di sostegno in deroga per concludere si è parlato praticamente dei disagi del nord quindi per quanto riguarda la mancanza di docenti io voglio sottolineare anche i disagi del sud in particolare mi riferisco alla disparità che c'è nell'offerta formativa tra le regioni del sud e quelle del nord non per fare adesso qui campanilismo ma semplicemente c'è un dato di fatto ad esempio che il tempo pieno al sud non raggiunge il 10% di erogazione di questo di questo servizio con tutte le opportunità poi positive che derivano per i studenti nonché anche per i docenti e invece al nord sfioriamo anche il 90% appunto delle scuole che assicurano questo presidio formativo per concludere una di queste una proposta per risolvere questa disparità è la definizione dei servizi di istruzione e la garanzia appunto su tutto il territorio nazionale in maniera omogenea e da tanto che lo chiediamo ma questo non è stato mai fatto e per finire poi l'internalizzazione dei servizi di pulizia e quindi lo sblocco dei 12.000 posti accantonati tutelando coloro che in tutti questi anni hanno ricoperto questi posti appunto prestando in pratica il proprio lavoro però alle dipendenze delle cooperative grazie onorevole Marzana fra la senatrice Montevecchi e lei avete quasi esaurito il tempo del gruppo comunque senatrice Blondo prego va bene io sarò brevissima per lasciare spazio anche al collega Vacca allora impongo delle semplici domande si è parlato prima di chiedo scusa collega si è parlato prima di concorsi che si intende mettere a regime e di una positività di questa procedura concorsuale che tra l'altro prende spunto da delle proposte che erano state fatte nella legge a prima firma Chimienti quindi apprezziamo anche questa disponibilità ad accogliere le buone idee e si è parlato appunto di concorsi però resta una condizione discriminatoria nel fatto che i titoli acquisiti all'estero sono valutati e non c'è una vera corrispondenza con la validità reale concreta di questi titoli e i titoli delle lauree del vecchio ordinamento a tutt'oggi non hanno una chiarezza di come devono presentare questi crediti formativi che sono stati previsti nella circolare del 10 di agosto e un'altra domanda che pongo molto velocemente e invece riguarda i controlli ci sono appunto i controlli previsti e questo ci fa molto piacere per l'alternanza scuola lavoro che purtroppo resta obbligatoria quando invece a nostro avviso questa obbligatorietà soprattutto in alcune scuole che hanno difficoltà ad applicarla non sarebbe giusto e non ci sono almeno non mi è sembrato che sia stato illustrato qualcosa inerente ai controlli di come i dirigenti scolastici mettono in atto le loro potenzialità di poter agire in maniera più libera e per così dire anche per appalti e quant'altro relativamente al discorso ricostruzione delle scuole o altri aspetti che non approfondisco perché non c'è tempo e l'ultimissima domanda mi fa piacere che esiste l'iniziativa e l'attivazione dell'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica ma chiedo a che punto siamo per l'osservatorio della dispersione scolastica e come si intende utilizzare tutto il materiale delle audizioni che si sono tenute alla Camera in merito a questo grazie grazie senatrice Blundo onorevole Vacca un minuto proprio il PD il collega dottorio mi ha detto che c'è un po' del tempo del PD penso allora no sarò brevissimo però passo soltanto a delle domande molto secche e nette allora mi associo anch'io alla richiesta di chiarimenti in merito all'intenzione del governo per quanto riguarda la valorizzazione delle professionalità in particolare dei docenti abbiamo letto notizie insomma che sarebbero mortificanti a mio avviso per quanto riguarda appunto lo sblocco del contratto fermo da nove anni si parla di 85 euro in media l'orde quindi una quarantina di euro che oltretutto in gran parte verrebbero annullate dagli 80 euro del bonus di Renzi quindi di fatto sarebbe un finto rinnovo del contratto volevo chiedere se la Ministra se poteva darci qualche notizia magari in più e se è vero che punta la notizia che sta circolando in queste ore sui media poi dirigenti scolastici se il Ministro ci consentirà che insomma quando lei dice che il bando è imminente un po' non prendiamo questa affermazione ovviamente con molta cautela lo sta dicendo da luglio che il bando era imminente ancora non lo vediamo lei parla di giorni sono pochi giorni sono insomma qualche notizia un po' più certa sul bando per il concorso dirigenti considerando l'alto numero di direggenze che anche quest'anno ci sono per quanto riguarda anche se c'è qualche novità per quanto riguarda l'adeguamento stipendiale dagli stessi dirigenti una rivendicazione che giustamente fanno e che si aspettano qualche risposta in legge di bilancio si è parlato poco di amministrativi di personale ATA si è prevista qualche novità per il personale sempre in legge di bilancio considerando anche lì l'alto numero di posti vacanti che assenti e sempre per quanto riguarda i dirigenti si è prevista qualcosa per quanto riguarda appunto la responsabilità in tema di sicurezza degli edifici scolastici è in discussione qua alla Camera sono in discussione delle proposte di legge che affrontano proprio questa problematica e si parlava di un intervento eventualmente considerando appunto la maggior velocità in legge di bilancio se il governo prevede intervenire per quanto riguarda mi permetta di chiudere per quanto riguarda sempre la sicurezza è un tema di cui abbiamo già discusso anche nel decreto per esempio l'ultimo decreto sisma l'indice di vulnerabilità sismica si stanno svolgendo le indagini stanno uscendo i risultati ora però quello che registriamo è che in alcuni territori alcuni sindaci chiudono scuole in assenza di una normativa chiara e nazionale chiudono scuole con un indice di 0,1 molti sindaci invece lasciano aperto e quindi non prendono provvedimenti perché manca un indice di riferimento mancano dei criteri che valgono per tutti quanti sia i dirigenti che ovviamente proprietari degli immobili se intenzione il governo anche l'intervenire e dare delle indicazioni chiare quelle che noi abbiamo chiesto il giorno del decreto sisma e che continuiamo a chiedere ovviamente perché riteniamo un punto fondamentale Grazie onorevole Vacca abbiamo naturalmente esforato coi tempi ma insomma senatrice Ferrara Grazie grazie Ministra della relazione è evidente che siamo in una fase insomma di superamento di quelli che sono stati i momenti davvero di impatto delle azioni di stabilizzazione del personale in un piano d'assunzione veramente esorbitante a fronte di una situazione che rappresentava quantomeno delle aspetti di matematicità e difficoltà anche di regia ma adesso quello che conforta all'interno di questa relazione è davvero quello non è solo appunto pensare a questi dati a queste tempistiche più positive seppur senza negare quelle che possono essere state ancora delle criticità ma c'è un importante elemento programmatorio che voglio sottolineare sia nel senso dell'aspetto più amministrativo riguarda anche la gestione del personale ma sia anche negli aspetti innovativi più sfidanti come si diceva allora vorrei visto che si parlava dei 70 anni della costituzione e in questo da questo punto di vista noi siamo una in questo in questo caso sempre settime commissioni sia il senato che la camera interessate all'aspetto culturale rilevo che il prossimo anno sarà l'anno europeo del patrimonio e che nelle nostre commissioni veramente nelle ultime riflessioni io posso parlare per questa legislatura ma penso che sia stata caratterizzante di questa legislatura il fatto di aver voluto intersecare in modo molto approfondito il tema della formazione con i temi della produzione e dell'industria creativa e ne sono testimonianza anche la produzione legislativa che abbiamo fatto in questo senso dal codice dello spettacolo che spero che avverrà approvato presto ma la legge sul cinema anche le industrie creative e qui siamo all'articolo 9 della costituzione su questo so che non è stato citato non perché meno importante però il decreto legislativo 60 e magari faremo il punto prima di Natale con il piano delle arti dà un'opportunità veramente diciamo più che calzante rispetto all'anno del patrimonio che sarà l'anno prossimo imponendo una visione che è una visione sì dell'Italia con i suoi beni culturali con il suo patrimonio anche paesaggistico e la sostenibilità ma anche una diciamo una visione di nuova cittadinanza e di accesso di diritto all'accesso al patrimonio che credo siano un po' il sale anche di molte cose che abbiamo scritto nella 107 che saranno scritte anche nei decreti attuativi rispetto all'articolo 3 appunto che è stato citato da lei ministra io ritengo sia davvero fondamentale che venga sviluppato questo piano d'azione del rispetto che contempli tutto e naturalmente mi sento particolarmente vicino al percorso che riguarda gli aspetti antidiscriminatori per quello che riguarda proprio le linee guida anche l'utilizzo consapevole della rete quindi contro l'uso distorto del cyberbullismo eccetera queste due cose sono due facce della stessa medaglia e quindi vedo davvero come diciamo prospettiva futura certo non si esaurirà in un anno scolastico ma potrà essere un ulteriore incentivo nei piani triennali delle offerte formative nella parte della formazione per i docenti perché se si parla di qualità si parla di qualità a fronte anche delle azioni che si stanno davvero già facendo e che hanno le visioni contenute nelle diciamo perfettamente contenute nella centosette risottolineate dalla sua relazione grazie grazie senatrice Ferrara la senatrice Petraglia grazie buonasera a tutti e tutte ministra nella sua relazione abbiamo appreso che fortunatamente è stato fatto un cambio di ministro perché tutti gli errori sono stati fatti dal precedente ministro e non troviamo devo dire nemmeno un'autocritica di quello che è successo in tutto questo anno e a leggere la relazione sembrerebbe tutto bene però alcune cose tanti interventi dei colleghi lo hanno detto le vorremmo ricordare anche noi intanto lei il 4 luglio ci ha annunciato che gli studenti avrebbero avuto in cattedra tutti gli insegnanti dall'inizio dell'anno non so chi ha scritto per lei la relazione ma forse non si è accorto che ancora oggi mancano gli studenti mancano gli insegnanti a scuola molte scuole non hanno gli orari definitivi completi e là dove hanno fatto l'orario completo gli insegnanti stanno cambiando ogni giorno e questo è un problema ci ha detto che le GAE sono esaurite e quindi una delle difficoltà e questa ci chiediamo perché non si procede all'assunzione dei precari a partire da quelli della seconda fascia la questione insegnanti di sostegno beh devo dire che su questo non è che ci sono molte giustificazioni perché se tutto quello che ci raccontiamo tutte le volte sull'importanza della garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti sugli insegnanti di sostegno non si può transiggere e questa cosa che ancora oggi mancano gli insegnanti di sostegno è molto grave molto grave perché ovviamente non garantiamo il diritto allo studio a nessuno oltretutto noi oggi ci troviamo a fare gli insegnanti di sostegno supplenti che non hanno specializzazioni in molte scuole ci sono addirittura i diplomati degli insegnamenti tecnico-pratici senza abilitazione in molte classi non è rispettato il limite dei 20 alunni ci sono addirittura classi con disabili e con 31 alunni quindi non numeri proprio piccoli insomma lo scandalo mai scritto anche nella sua relazione dei 40.000 posti di sostegno in deroga ci chiediamo perché non si provveda velocemente a trasformarle quelli in organico di diritto e quando si smetterà oltretutto di attivare meno ore di sostegno all'inizio dell'anno e provare e per poi aumentarli necessariamente sul ricorso dei genitori sottolineo un'altra cosa che oltre a mancare gli insegnanti di sostegno mancano anche gli educatori nella scuola perché grazie ai tagli che sono stati effettuati in questi anni agli enti locali ovviamente non sono in grado gli enti locali di garantire gli educatori mi scuso per la velocità ma il tempo è tiranno quindi vado al tema caldo di cui abbiamo sentito in questi giorni che riguarda gli ATA il non aver previsto ovviamente l'assunzione di ATA nella 107 ha fatto esplodere un serio problema perché manca il personale per garantire l'apertura delle scuole quella normale dell'orario scolastico figuriamoci poi quella pomeridiana prevista dalla legge 107 per non parlare della mancanza di DSGA ci sono reggenze anche su questo cioè praticamente nelle scuole manca chi dovrebbe gestire l'autonomia la cassa delle scuole anche noi vorremmo dettagli più concreti rispetto al concorso dei dirigenti scolastici ne sentiamo parlare da troppo tempo e troppe sono le reggenze vorremmo capire se in legge di stabilità troviamo misure concrete per il diritto allo studio non soltanto per quello universitario ma anche per il diritto allo studio per garantire ai ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo di poterla completare fino ai 18 anni i dati ci dicono che sono troppi gli abbandoni scolastici anche grazie alla crisi economica non abbiamo letto nella sua relazione nessun riferimento al rinnovo del contratto a cui hanno fatto riferimento altri interventi siamo ovviamente preoccupati delle notizie della sostituzione della delle 85 euro con l'adeguamento contrattuale in realtà vorremmo capire se ci sono le condizioni e la volontà ovviamente politica di adeguare quello che è la retribuzione salariale a quelli che sono a quelli che sono i livelli europei e soprattutto se prima o poi cominciando da questo decidete di valorizzare socialmente il ruolo degli insegnanti visto il discredito a cui li avete sottoposti durante tutta la fase della discussione della 107 sull'alternanza scuola lavoro diciamo soltanto che per noi rappresenta un vero e proprio asservimento al mercato del lavoro precario penso che ci siano ormai esempi così evidenti che possiamo dire che ha fallito del tutto ci troviamo situazioni variegate su tutto il territorio nazionale oltre ai casi drammatici come l'ultimo del ragazzo che è rimasto sotto il muletto mentre faceva l'alternanza scuola lavoro abbiamo addirittura province dove sono state fatte persino in nome della scuola laica sono state fatte persino le convenzioni con le diocesi per garantire la scuola l'alternanza scuola lavoro diciamo che noi non abbiamo pensiamo che non sia necessario distogliere i ragazzi che hanno bisogno di aumentare il livello di istruzione di distoglierli per oltretutto mostrare loro un mercato del lavoro che già nella parola mercato la dice tutta che ha come esempio appunto lo sfruttamento del lavoro su questo proposito vorremmo capire in che modo intende coinvolgere il Parlamento in questa proposta che lei ha fatto durante l'estate sulla riduzione del numero di anni dei licei i famosi licei a quattro anni vorremmo capire se ha intenzione di coinvolgere il Parlamento ovviamente nella sua relazione non fa accenni assolutamente all'edilizia scolastica ci chiediamo e quindi anche su questo ci aspettiamo risorse all'interno della legge di stabilità vorremmo capire quando pensate di inserire di mettere il tempo pieno anche al sud e infine ultime due cose intanto se ci sono i tempi per esempio per approvare la legge all'educazione sentimentale in estate del disegno di legge qui in commissione alla Camera speriamo che si possa arrivare alla conclusione ultima cosa gliela chiedo sull'AFAM nella sua relazione non ha fatto riferimento al Senato è in discussione un ennesimo testo di legge per la statizzazione di tutti gli istituti pareggiati vorremmo capire anche lì a che punto è il nostro lavoro chiudo oppure dovremmo ancora una volta trovarci un decreto dove magari decidete quali sono i tre primi conservatori da pareggiare istituti pareggiati da statizzare magari sulla base di scelte elettorali grazie attrice Petraglia Petraglia naturalmente anche qui abbiamo sforato i tempi però cerchiamo sempre di venirci incontro questo deve essere un accordo improprio un accordo improprio allora onorevole Malpezzi grazie presidente mi sono persa la battuta grazie grazie presidente grazie ministra per una relazione veramente esaustiva e soprattutto perché io che spesso mi perdo per natura ho trovato la conferma dei numeri lei nella relazione ci ha offerto al di là di quello che ha letto e ha presentato degli allegati che non mentono i numeri danno delle certezze e danno delle certezze penso all'allegato che troviamo a pagina 17 l'allegato 2 sul contratti a tempo determinato danno delle certezze chiare i contratti a tempo determinato nel passaggio 16-17 al 17-18 i numeri si vedono sono in netta diminuzione questo perché perché è il sistema che è stato messo in atto e io insieme al gruppo del Partito Democratico la ringrazio anche per la tenacia di aver voluto che tutto quel cronoprogramma venisse rispettato e ciò ha consentito un inizio dell'anno scolastico indubbiamente più sereno perché è in dubbio che lo scorso anno ci siano stati dei problemi è in dubbio perché un conto è assumere e dare e quindi offrire contratti a tempo indeterminato per circa 7.000 8.000 docenti all'anno come era sempre capitato quindi una macchina che era abituata a lavorare in quel modo indubbio è passare da 7.000 8.000 contratti a tempo indeterminato all'anno a 160.000 che è stato il risultato che lo scorso anno il MIUR ha dovuto in un certo senso governare perché ricordiamo che le assunzioni portano poi all'anno di prova e quindi alle possibilità di tutti i trasferimenti ma non sto qui a tediare nessuno perché immagino che tutti i colleghi conoscano anche le dinamiche contrattuali e il fatto che rispetto a queste le dinamiche contrattuali e i legittimi diritti dei docenti rispetto a queste il MIUR ha ben poco da fare il rispetto però di una tabella di marcia il rispetto e la lotta anche di quello che era stato chiesto nella scorsa legge di bilancio che aveva portato finalmente a un primo tentativo di superamento tra organico di fatto e organico di diritto che è quello che è sempre stato chiesto da tutti e che lo scorso anno è stato portato realizzato non completamente ma con un numero indubbiamente importante ha garantito ulteriori assunzioni oltre a garantire i diritti per i lavoratori lo ricordiamo a tutti e qua penso che siamo tutti d'accordo le assunzioni garantiscono la continuità didattica al netto e la ringrazio di averlo sottolineato all'interno della sua relazione di quelli che sono poi i legittimi movimenti ma visto la sua intenzione qui espressa di ridiscutere il contratto di mobilità nel triennio e non annualmente quindi garantendo per gli studenti e penso che qui da tutti sia sostenuto l'impegno principale che la scuola deve esercitare nei confronti degli studenti ecco forse avremo un assestamento ulteriormente positivo anche il prossimo anno scolastico l'argomento dei docenti di sostegno è chiaro che preoccupa però mi piacerebbe anche sentire con un grande onestà intellettuale tutti coloro che sostengono che abbiamo bisogno di docenti di sostegno e lo sosteniamo tutti che i docenti di sostegno non ci sono fisicamente e non ci sono fisicamente questo andrebbe detto ma va detto al di là della politica va detto raccontando la cronaca non ci sono perché quando abbiamo assunto con legge 107 giustamente per diritto i docenti che avevano la specializzazione hanno chiesto di andare su materia è un diritto glielo vogliamo togliere penso proprio di no e nessuno mai e anche questo non viene ricordato io capisco che poi l'enfasi della discussione durante la 107 fa perdere alcuni passaggi ma nessuno ricorda mai che proprio grazie al concorso voluto dalla 107 si è creata la classe di concorso specifica sul sostegno per garantirci finalmente un numero allora questo andrebbe detto ai genitori andrebbe raccontato da tutti perché non c'è volontà di nessuno di non implementare il sostegno e io sono sicura che qualora si aprissero ulteriori spazi questa cosa sarà fatta ma gli spazi sono quelli i posti in deroga lo sappiamo ed è una battaglia da sempre sono posti che non possono essere trasformati in altro modo perché le deroga riguardano il fatto che quello studente con disabilità sarà uno studente di quella scuola per un periodo a tempo determinato il ragionamento che viene fatto è questo può essere opinabile o meno ma sappiamo che poi il quadro generale del ragionamento deve essere quello di una norma che è comune continuiamo a lavorare per implementare il numero degli insegnanti di sostegno questo penso che ci troverà completamente d'accordo e la ringrazio anche per aver posto l'accento sul personale ATA sulla necessità del concorso su questa data del 2018 che vedrà oltre al concorso dei dirigenti scolastici che partirà a breve anche un altro settore vedere finalmente le proprie figure di organizzazione essere messe nelle condizioni di poter lavorare perché la scuola solo in questo modo funziona quindi ringrazio anche per aver messo espresso questa volontà chiara che insomma vedremo realizzata a breve passo invece all'aspetto che mi così consentiranno i colleghi a noi sta maggiormente a cuore sono gli ultimi aspetti che lei ha toccato quelli che riguardano fondamentalmente i ragazzi perché lo diciamo sempre la scuola dei ragazzi poi io capisco ma trascorriamo due ore a parlare nuovamente legittimamente lo ribadisco perché è importante dei docenti delle situazioni varie ma non guardiamo il punto di vista e la situazione in cui si trovano i ragazzi e allora parto dall'alternanza scuola lavoro se serve ministra spiegare ulteriormente che l'alternanza c'è già scritto c'è scritto persino nelle circolari che il mio Rai Manato ma qualora dovesse servire spiegare che l'alternanza scuola lavoro non offre competenze professionali ma offre competenze trasversali forse abbiamo fatto la pace con tutti perché i nostri ragazzi non vanno a lavorare non sono manodopera sfruttata a basso costo o gratuitamente sono ragazzi che stanno acquisendo delle competenze trasversali e guarda caso sono quelle competenze che forse a noi dovrebbero stare a cuore visto che il 62% degli studenti oggi a scuola al mondo farà un domani un lavoro che non esiste e se la scuola non si preoccupa fin da oggi di offrire competenze diverse e diversificate noi creiamo i nostri ragazzi diamo ai nostri ragazzi strumenti in meno e li rendiamo analfabeti di un mondo che richiederà invece loro sempre ulteriormente competenze che sono diverse questo è uno strumento uno strumento quindi utile perché è metodologia didattica uno strumento utile perché offre competenze fa bene a mantenere l'obbligatorietà ministra perché è necessario è una sfida questa e oltretutto è una sfida anche che ci aiuta nella lotta contro la dispersione scolastica non possiamo parlare di dispersione scolastica e non tenere a mente che questo è uno strumento e non lo abbiamo inventato noi ce l'hanno detto le indagini che abbiamo fatto questa commissione è stata protagonista per tre anni forse mi correga la presidente se sbaglio di un lavoro di un'indagine conoscitiva sullo stato della dispersione scolastica in Italia e non è stata solo un'azione di denuncia ha messo in atto e ha segnalato una serie di misure tra queste c'è anche l'alternanza scuola lavoro vogliamo dire che non funziona non è l'invenzione del partito democratico ce l'hanno detto chi è venuto da noi a dirci quello serve perché i ragazzi stanno a scuola non per obbligo ma perché la scuola offre loro delle opportunità in più e quindi li accoglie con una modalità diversa e questa modalità diversa è quella che lei esprime anche quando parla di educazione al rispetto di lotta contro l'odio il linguaggio dell'odio per contrastarlo di quell'educazione civica digitale attraverso la quale i nostri ragazzi finalmente potranno fare anche un percorso ulteriormente approfondito ce lo chiedono loro questi sono tutti elementi che sono i nostri ragazzi che ci chiedono da tempo un'ultima cosa ministra e mi fermo l'infanzia è stato fatto tanto la delega sullo 06 è sicuramente importante io penso che un segnale forte nei confronti di quel mondo anche dal punto di vista di una possiamo chiamarlo potenziamento possiamo chiamarlo arricchimento ecco forse ci aiuterebbe a completare quel quadro che la 107 ha fatto iniziare perché noi ci dimentichiamo troppo spesso che la 107 ha aperto spazi per una didattica innovativa nuovi spazi per poter imparare diversamente l'edilizia scolastica rientra in questo contesto l'edilizia scolastica i numeri sono in chiaro anche lì lei non li ha presentati ma ci sono li ha già presentati precedentemente ci sono state conferenze stampa qui insomma si trovano anche online volendo ma sono stati già offerti anche in in questa sede sono numeri che ci dicono che vogliamo una scuola che porti avanti dei nuovi spazi in cui si apprenda anche in maniera diversa una nuova scuola che fisicamente è diversa è una scuola che garantisce all'insegnante di poter lavorare meglio sul resto io lo dico solo per memoria storica la 107 ha previsto l'anagrafe dell'edilizia scolastica la programmazione al ministero e quindi al governo spettano i fondi ma sul resto sono gli enti locali che devono pensare di programmare in maniera corretta non è il ministero che va a verificare scusate se le scuole di Roma o di Canicattì o di Milano sono a posto ma è un'amministrazione che deve farsi carico di fare in modo di fare la richiesta grazie grazie onorevole Malpezzi sono intervenuti i rappresentanti di sei gruppi chiedo alla ministra di replicare facciamo in tempo a far tutto tanto caso mai quello che non replico se mi dimentico qualcosa questa sera ovviamente sono disponibile a ritornare voglio solo fare un chiarimento iniziale perché amo diciamo così una trasparenza fra di noi mi era stato chiesto un'audizione sull'avvio dell'anno scolastico lo dico per correttezza io poi parlo anche di tutto non solo perché mi sembra legittimo dialogare però diciamo così l'audizione era su questo secondo lo dico trasversalmente senza stare a riprendere diciamo le singole persone che ne hanno parlato vi chiedo adesso non so se gli uffici sono già in grado di farlo ma comunque per quanto riguarda tutto il tema dell'edilizia scolastica in generale noi abbiamo fatto l'osservatorio che era vent'anni che non è stato fatto sul sito del MIUR si trovano tutte le linee di finanziamento anche i nomi di dove prego no no ma adesso però diciamo adesso stiamo parlando di quello che compete al governo io sono sempre in grado di distinguere tra quello che compete al governo e quello che compete al Parlamento con reciproco rispetto c'è quello ma c'è anche l'anagrafe sull'anagrafe lo dico perché secondo me invece sono dati importanti di monitoraggio io penso che la trasparenza sia un punto corretto nei confronti dei cittadini terza cosa lo dico per esempio su alcuni interventi che hanno posto il tema anche sulle manutenzioni che quelli dipendono dagli enti locali lo dico perché poi anche qui almeno fra di noi competenze responsabilità poi siamo un sistema paese però diventa abbastanza importante conoscere tutto questo lo dico perché sull'edilizia se volete ci possiamo tornare sopra perché va a questo punto visto tutti l'investimento di miliardi che sono stati fatti dove come quando e anche gli strumenti a disposizione di gestione perché un conto emette i finanziamenti e poi doverli giustamente governare attuare applicare siccome è un tema giusto lo dico per questo mi permetto presidente trasversalmente di dire questo secondo voglio parlare anche io perché l'avete in qualche modo toccato tutti la questione dell'alternanza scuola-lavoro non stava diciamo io mediamente diciamo sono attenta ai numeri alla qualità lo dico per rispetto reciproco allora la prima cosa su alternanza scuola-lavoro se necessario faremo ulteriori implementazioni di chiarezza ma voglio che sia chiaro chiaro intanto che normalmente c'è una responsabilità fino a prova contraria di un governo di applicare delle leggi poi si possono applicare in modo utile accompagnandole come io penso si debba fare ma l'alternanza scuola-lavoro è entrata nella legge ed è a questo punto tra l'altro un tema di grandissima responsabilità perché entrerà anche come valutazione nell'anno scolastico 2018-2018 però se mi posso permettere io ho ascoltato ok siccome ho un tema serio perché è un tema di innovazione didattica di qualità di contenuti formativi del fatto che noi arriviamo a questa innovazione qualitativa dopo averla chiesta per chi si occupava di formazione di cultura di innovazione didattica da anni lo dico perché la diffusione delle esperienze quando diventano poi strumento permanente e strutturale ovviamente vanno secondo me accompagnate lo dico perché il tema della qualità formativa è decisivo posso permettermi di dire che in giro c'è persino non nella scuola ma in giro anche nel dibattito pubblico c'è chi confonde alternanza scuola-lavoro con apprendistato lo possiamo dire confondendo un rapporto di lavoro che poi ha anche una parte che riguarda la formazione con l'innovazione poi io lo so che i processi di innovazione non sto parlando di qua sto parlando in generale allora su questo per esempio qual è il significato della piattaforma e comincio a rispondere per cui fra una settimana sarà online l'abbiamo voluta esattamente per mettere lì non un'interlocuzione fredda ma un dialogo tra le buone pratiche progettazione di qualità ma abbiamo messo un punto in più per dire qual è il tipo di responsabilità che ci sentiamo di dover perseguire perché è un punto davvero importante per le studentesse e per gli studenti abbiamo anche messo dentro a questa piattaforma un tasto rosso questo tasto rosso è a disposizione dei delegati dei rappresentanti e degli studenti proprio perché siccome il mondo è largo lungo vasto e differenziato e l'economia reale e per me l'economia reale non è solo l'impresa nel senso tradizione del tema ma è l'insieme di chi può offrire ovviamente nell'economia in generale offerte di alternanza abbiamo messo questo tastino rosso a cui gli studenti i rappresentanti degli studenti possono accedere per segnalare in tempo reale anche la non corrispondenza tra la qualità di un progetto e la sua applicazione la dico velocemente questa e dico anche che non stiamo soltanto annunciando c'è un percorso quando si fa per esempio ovviamente diciamo così la responsabilità dei diritti e dei doveri dei ragazzi in alternanza noi si siamo messi a posto se poi gli altri organi di controllo ci mettono un po' più di tempo io posso dire solo quando esce sulla gazzetta ufficiale spero entro dieci giorni ci sarà anche quello lo dico perché voi sapete bene qual è la complessità dei percorsi di governo di queste cose però quello che aspettava alla MIUR noi lo abbiamo fatto anche da questo punto di vista vi aggiungo una cosa che però siccome non era dentro all'audizione che mi è stata chiesta ma visto l'interesse legittimo che tutti avete sollevato vi dico anche che abbiamo scelto come ministero di fare a dicembre dopo che abbiamo messo a posto noi con anche i nuovi tutor con la formazione dei docenti con una qualità ed un monitoraggio vero anche di chi deve offrire alternanze in modo qualificato noi abbiamo deciso di fare a dicembre gli stati generali dell'alternanza scuola lavoro ma cosa sono questi stati generali sono esattamente a chiamare responsabilità non solo la parte di competenza che riguarda in primis al governo al mio ministero ma responsabilità pubblica tutti 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 soggetti che vengono oggettivamente coinvolti nell'alternanza scuola lavoro quindi sistema di rappresentanza delle imprese del terzo settore di tutte le amministrazioni perché voi sapete che alternanza si fa nell'insieme perché è un punto guardate fondamentale della responsabilità qualitativa dei percorsi di apprendimento e di formazione che sono i nuovi skills trasversali che servono non invece utilizzati in altro modo poi può sempre sfuggire ovviamente sappiamo che questo c'è però io credo che abbiamo messo in campo e chiediamo il contributo di tutti per esattamente una finalità qualitativa sarebbe un errore qui lo dico poi è legittima ovviamente un'opinione differente secondo me il tema non è decretarne il fallimento il tema è qualificarne l'azione per come il legislatore e qualitativamente l'ha introdotto poi senatrice Petraglia capisco le opinioni sono legittimamente diverse però diciamo da un punto di vista anche delle cose che venivano sollevate da altri interventi di deputate questo mi sembrava il tema importante la riprendo così perché l'avete toccata diciamo in più persone però questo mi sembra un tema significativo per arrivare invece ad alcune specifiche di richieste e di domande che sono state fatte intanto arrivo al deputato Palmieri la questione che riguarda le scuole paritarie lei sa anche perché c'è stata anche una scelta oggi pubblica di due ministri che dialogano in modo negoziale vero con la commissione europea perché decide la legislazione italiana cosa è pubblica nella scuola glielo dico perché lei sa che su questo terreno con i PON abbiamo anche tenuto da parte le risorse su questo terreno e abbiamo fatto io credo un'azione giusta corrispondente ad una legislazione che il Parlamento italiano ha varato nel 2017 non solo lei sa che per quanto riguarda la questione anche del digitale abbiamo in questa fase dato la possibilità di mettersi in rete da parte delle scuole paritarie con le scuole statali esattamente per non essere escluse già nell'immediatezza legata alla digitalizzazione poi è un tema che dobbiamo risolvere nel negoziato secondo me fondamentale con Bruxelles però mi sembra che anche avere un atto formale con la firma di una lettera a Bruxelles di due ministri del governo è un segnale di serietà secondo me dell'impegno del governo a rispettare una decisione del Parlamento italiano che è sempre un tema secondo me dovuto sulla questione della piattaforma che esce la prossima settimana l'ho detto Senatore Conte allora intanto le dico due cose la risposta è che noi come ho detto nella mia relazione stiamo programmando perché questo è che stiamo esattamente programmando sui posti scoperti sia per il concorso per dirigenti anche questo quando esce in gazzetta ufficiale tutta la parte noi l'abbiamo fatta quando dico veramente fra qualche giorno non è l'annuncio costante del bando sono le diverse diciamo fasi di step però questo c'è e c'è una cosa molto importante che non avete colto ma è qualitativa da un punto di vista secondo me dei numeri e del fatto che abbiamo fatto una programmazione sui numeri che guarda tre anni perché la cosa vera che ci manca adesso lo dico dal punto di vista generale è che bisogna sempre programmare non solo guardare allo scoperto attuale e questo vale anche per l'altro personale amministrativo lo affrontiamo nel 2018 sulla questione invece dei posti che riguardano le università del Veneto che ne hanno pochi su quelle di sostegno posso permettermi di dirle questo visto che l'ho discusso anche con il direttore regionale del Veneto e altre persone due settimane fa a Treviso lì c'è stato anche un problema lo dico per concretezza in cui nessuno si è posto il tema da parte delle università del Veneto di chiedere posti su quello e quindi di chiedere corsi lo dico perché questo è un altro degli elementi da altre parti sono stati chiesti poi capisco e rispondo da un punto di vista di principio è chiaro che i posti di sostegno poi dal punto di vista degli specializzanti dovranno tener conto dell'insieme delle condizioni nazionali però c'è un punto a monte che riguarda il Veneto e mi sembrava giusto dirlo anche qui a lei come l'ho detto già in Veneto capisco anche dal punto di vista ovviamente dell'onorevole Nicchi io ho un'opinione diversa sul rapporto tra superamento o no ovviamente il mio non è solo un no al superamento della legge 107 ma io rimango convinta non dico nient'altro ma che i contenuti delle otto dele che sono un punto di innovazione e di qualità secondo me che è stato offerto da quella decreti attuativi ovviamente le opinioni possono restare ovviamente diverse però ci sono delle innovazioni che guardate e mi aggancio ad un altro tema che avete sollevato possiamo discutere ma avere innovato anche sul reclutamento dei nuovi docenti se mi posso permettere una delle altre diciamo decisioni che qualificano e danno il segno di dove noi vogliamo portare la qualità professionale riconosciuta socialmente e nei tempi e nei modi dovuti anche economicamente una delle figure professionalmente secondo me più importanti che un paese dovrebbe sapere che sono le più importanti per l'insieme del paese lo dico perché prendo solo quello che è il nuovo reclutamento io non ho problemi a dire qui che l'impegno sulla questione del rinnovo dei contratti per tutti per tutti è un tema secondo me è un tema assolutamente all'attenzione del governo non mi sembra diciamo corretto oggi da due punti di vista dire una cosa in più anche perché una parte riguarda il negoziato che devi fare date le risorse c'è un elemento che riguarda il negoziato con i soggetti che sono già in parte avviati con l'Aram per trovare le modalità interne del rinnovo dei contratti ma che l'impegno del governo sia a rinnovare i contratti questo lo ridico qui e vale per l'insieme delle figure guardate lo dico così non è solo giusto in sé perché sono sette anni che non si fanno i contratti punto ma è esattamente sarebbe contraddittorio non rinnovare i contratti esattamente sulla scia di un percorso diciamo di visione di valorizzazione delle professionalità che stanno all'interno della filiera io dico della filiera del sapere sempre per stare diciamo in crocio chiedo scusa se poi non utilizzo tutti i vostri cognomi ma anche questa cosa della questione dei quattro anni però l'avete toccata in più di uno voglio riprenderla intanto era una sperimentazione ed è una sperimentazione in corso punto è una sperimentazione che cosa è avvenuto quando sono arrivata al ministero perché era già in corso secondo me una sperimentazione questo l'abbiamo visto perché il consiglio della pubblica istruzione aveva già deliberato era già diciamo una procedura da attuare intanto la cosa vera di una sperimentazione può essere una sperimentazione se è nazionale se è governata se è guardata davvero non tanto per ridurre l'anno ma per valutare effettivamente vedere se con le innovazioni didattiche con la qualità organizzativa e di contenuto tu puoi allineare a una parte non tutta non è tutta l'Europa così ma una parte dell'Europa una possibilità di sbocco nei tempi differenti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi ma lo ridico qua è una sperimentazione che termina fra quattro anni alla fine dei quattro anni i decisori politici oltre che secondo me i soggetti interni al mondo della scuola valuteranno se quella sperimentazione ha dato prodotti diciamo ha dato risultati positivi e a quel punto no lo so voglio dire però lo vedi lo vedi lì cioè una sperimentazione di per sé l'importante è saperla seguire governarla e guardarne ovviamente anche nel modo con cui si dice se no ai contenuti dopodiché quando la sperimentazione è finita si valuterà se farla diventare norma e a quel punto c'è un ragionamento secondo me che riguarda ed è lì che io ho detto solo a quel punto ci sarà un ragionamento che va a riguardare e dovrà riguardare la funzione dei cicli scolastici e da questo punto di vista si porrà il problema qui dico una cosa che poco si coglie e ho detto che a quel punto si pone il tema della diciamo dell'obbligo non solo adesso del diritto formativo che c'è già fino a 18 anni del diritto che è una cosa diversa ovviamente dall'obbligo con quello che significa per gli impegni anche di spesa ma a quel punto perché può essere un punto quello si discute diciamo a quello stadio importante perché c'è un altro elemento di innovazione che abbiamo fatto sull'altra delega della formazione professionale perché abbiamo fatto un'innovazione secondo me molto importante molto vicina alle caratteristiche europee di aver incrociato gli istituti di formazione professionale statale con le possibilità regionali anche di interscambio e di passaggio qualificandone contenuti e percorsi ma anche dando la possibilità alla formazione professionale di sperimentare il quarto anno il quarto anno rispetto al terzo anno per dare il titolo significa intanto una possibilità di dare il titolo riconosciuto in linea con il riconoscimento dei titoli in Europa e a quel punto se voi fate mente locale vuol dire che lì c'è già una sperimentazione che porta i ragazzi a 17 anni nell'avere un titolo di studio professionale qualificato lo dicevo per questo ma guardate poi voi sapete come sono i giornali se le cose vanno bene non dicono niente se c'è solo la voglia di fare discussione lo fai però era collegato a lì lo dico perché questo è un elemento poi si può restare ovviamente dell'opinione che è comunque sbagliato fare una sperimentazione però questa c'era secondo me è gestita nel modo con cui abbiamo deciso dal mio punto di vista è assolutamente corretto non riprendo il tema dell'abbassamento del numero degli studenti perché in sé non è in sé sbagliato ovviamente ma come sempre in questo caso c'è il tema a caso mai di una qualificazione ed estensione già delle condizioni che dovrebbero esserci qui sì tra nord e sud secondo me più complessivamente ed una capacità programmatica anche qui come priorità di questo governo e di questa legislatura di portare sempre di più a superare il precariato come prima scelta e attraverso quello ovviamente poi ti potrai porre il tema anche della modifica e dell'abbassamento del numero di studenti perché tutto si può ovviamente definire ma le priorità vanno in qualche modo secondo me accolte qui lo dico anche adesso rispondevo anche da questo punto di vista alle questioni che sollevava la senatrice Montevecchi perché sono d'accordo il tema non sono solo i numeri che è la qualità dei progetti e questo è l'impegno più grande che come capite anche dal punto come diciamo così l'ho detta è straordinariamente all'attenzione del ministero speriamo di anzi sono sicura che riusciremo a monitorare al meglio sia la qualità che ovviamente le competenze che le ragazze e i ragazzi devono prendere da alternanza non mi risulta appunto che ci siano delle discrepanze sul numero di organico ma se ci sono delle segnalazioni sono sempre pronte a raccoglierle così come lo dico alla deputata Marzana qualunque cosa delle cattedre che spariscono non so a che cosa si riferisce perché c'è sempre una distinzione tra ovviamente le cattedre di diritto e tutto il resto che sta collocata laddove in equilibrio ci sono gli studenti dopodiché diciamo che il tema io capisco quando viene detto che ci sono molte più disabilità al sud e quindi ci sono molte più esigenze anche da questo punto di vista e lei diceva perché non incrociamo matematicamente le persone e i docenti diciamo che ci sono delle procedure se non ho capito ovviamente me lo riformulerà meglio e ovviamente risponderò in modo più adeguato dispersione scolastica senatrice Blundo perché sul resto in parte ho già risposto a fine mese il nostro Rossidoria ha completato tutto il lavoro e quindi ci sarà la proposta per quanto riguarda l'intervento sulla dispersione scolastica e sulla povertà educativa proposti povertà educativa e dispersione scolastica sottolineo due cose di cui ovviamente siete stati credo in parte attenti e protagonisti perché ci sono stati due provvedimenti in Parlamento che hanno messo in evidenza un raccordo tra sviluppo economico e povertà educativa uno è quello che riguarda le aree del mezzogiorno nel decreto sud e secondo me guardate dal nostro punto di vista dell'investimento sulla priorità di superare la povertà educativa è un segnale importante piccolo ma di tendenza di visione perché lì è stato messo non soltanto gli interventi economici per lo sviluppo di un territorio ma si è guardato anche alla povertà educativa quindi a interventi che riguardano l'istruzione e l'educazione così come sul provvedimento che è legato al ministro diciamo del lavoro quello sul reddito di inclusione c'è una cosa fondamentale lì si dice che oltre a determinare le caratteristiche di condizioni di povertà per accedere diciamo così a quel beneficio si dice anche che se si hanno i figli inferiori ai 18 anni devono andare a scuola e se non vengono mandati a scuola per dire anche qui che c'è un intreccio proprio promozionale dal punto di vista di che cosa significa l'istruzione l'educazione e la formazione per rendere più autonomi nel rapporto con la propria vita anche quando tu fai un'operazione di questa natura diciamo sulla povertà l'ho considerato due elementi significativi non esauriscono il tema della dispersione scolastica ma dobbiamo andare avanti deputato Vacca sulla valorizzazione dei docenti ho detto c'è un collegamento di più però l'impegno del governo c'è c'è anche l'attenzione ad un tema che lei ha posto del rapporto tra ciò che è stato firmato giusto o sbagliato ma è stato firmato dalle organizzazioni sindacali che la media del rinnovo sono 85 euro medi con un rapporto tra questi aumenti contrattuali con la questione degli 80 euro questo è un tema che ha aperto la discussione le confermo però che è un tema l'attenzione su questo come vale assolutamente per anche i dirigenti sull'indice di vulnerabilità sismica e su tutta questa partita la stiamo anche di nuovo affrontando con il nuovo la nuova anzi commissaria straordinaria perché è un altro degli elementi fondamentali lei ha sollevato un tema che in tanti solleviamo le dico con altrettanto onestà che è un tema complesso perché definire qual è la soglia di vulnerabilità insomma ci sono degli elementi complicati però un terreno su cui noi dovremmo andare avanti per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici se non ho capito male anche il rapporto alla funzione dei dirigenti c'è questo dibattito in corso credo in particolare qui alla Camera che mi pare un elemento molto serio che va assolutamente sostenuto ed affrontato perché qui è un tema di chiarezza delle responsabilità e di quindi sapere anche chi e come deve intervenire e ringrazio ovviamente la senatrice Ferrara anche e la senatrice Malpezzi perché diciamo da questo punto di vista hanno scusa l'onorevole chiedo scusa che gaff però alle 22 due minuti di sera chiedo scusa Malpezzi chiedo scusa no no vabbè perché stavo facendo in realtà perché no vabbè no vabbè all'onorevole Malpezzi e Ferrara per il contributo e anche con le opinioni che hanno che hanno espresso ecco quello che mi pare importante è anche dirvi che rimango convinta non l'avete toccato ma l'attuazione delle deleghe pur ciascuno con la propria convinzione però dovrebbe essere un altro tassello su cui se mi posso permettere lo dico ai due presidenti delle commissioni dovremmo darci un appuntamento prima della fine dell'anno perché è un altro degli elementi su cui comunque vale la pena conoscere e discuterne gli effetti l'ultima cosa la dico alla senatrice Petraglia questa volta non ho sbagliato la prego senatrice quando lei ha delle segnalazioni come quelle che ha affermato qui io la pregherei di segnalarlo agli uffici quando lei dice che mancano gli insegnanti in classe che ci sono stati dei cambiamenti costanti io la prego formalmente di segnalare dove come e quando perché noi intendiamo intervenire siccome abbiamo un monitoraggio no 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 i miei uffici gli uffici del MIUR ce l'ha no posso dire gli uffici del MIUR ce l'hanno le segnalazioni che ci vengono date non a caso ho detto anche di due realtà emotivate ho detto anche dove ci sono punti di criticità ma se mi posso permettere i punti di criticità uno dice c'è un sistema che al 60% non ha funzionato questo è il tema ma dove ci sono le criticità può essere anche che non vengano immediatamente segnalate ma è responsabilità anche ulteriore segnalarle cos'è che non funziona dal mio punto di vista legittime tutte le opinioni quello che non funziona è il fatto che uno non dice guarda ci sono queste 5 realtà o 25 che potrebbe essere che siano sfuggite e se sono sfuggite però la nostra responsabilità è intervenirci anche comprenderne esattamente le motivazioni perché a volte ci sono segnalazioni con motivazioni che non sono certo quelle che voleva segnalare lei ma di altra natura tipo io ho scelto di andare su un posto di ruolo e di diritto però guarda caso sotto casa mia adesso a distanza di 300 km c'è un posto che invece non è di diritto ma è ovviamente a tempo determinato magari per supplente ma perché non ci posso andare in quanto però persona di diritto queste sono cose che non c'entrano con i programmi e le regole che noi dobbiamo attuare così come credo che sia importante spero sia apprezzato da tutti che siamo rigorosi sulle questioni delle assegnazioni provvisorie per chi ha diritto sì per chi invece pensa di utilizzarle fuori dal diritto delle regole e delle leggi noi diciamo di no lo dico perché anche questo poi ovviamente determina e qui chiudo con il Veneto con le situazioni come quella ultima che si è determinata anche in Veneto in cui però noi siamo intervenuti può decidere che ti ammali solo perché hai scelto un posto di diritto lì e poi per altre ragioni perché magari fai anche un altro lavoro torni da un'altra parte però opinioni sono sempre ben accette l'attenzione diciamo anche nel tono con cui ci interloquiamo secondo me sono importanti nel rispetto reciproco grazie allora io ringrazio la Ministra Fedeli anche a nome del Presidente Marcucci per soprattutto per aver accettato di discutere con noi di temi che sono molto al di là di quello che era stato chiesto alla Ministra che come abbiamo detto all'inizio era veramente sull'avvio dell'anno scolastico ma la ringrazio anche per un altro motivo per la disponibilità che ci ha dato a un nuovo incontro prima della fine dell'anno per avere un monitoraggio preciso su quello che è l'attuazione delle deleghe credo potremo tranquillamente organizzare con gli uffici in maniera tale da dare attuazione a questa cosa ricordo anche a tutti i colleghi lo straordinario patrimonio che c'è di audizioni di lavoro di indagini conoscitive che da una parte e dall'altra sia dalla Camera sia dal Senato sono ormai a disposizione io credo di tutti noi sui temi come la dispersione sui temi come l'edilizia scolastica su moltissimi approfondimenti che in questi anni noi tutti abbiamo portato avanti vi ringrazio ringrazio davvero ancora la Ministra grazie a tutti Grazie a tutti